Microsoft Edge è sempre in evoluzione, questa volta è stata aggiunta una voce interessante, crea codice a matrice. Cosa significa? Semplicemente è possibile condividere il link di un sito web o di un'immagine tramite la visualizzazione di un QR code. La versione stabile di Edge ancora non lo permette, attualmente solo su Canary è possibile attivare la funzionalità, abilitando semplicemente un flag che potete trovare col nome Sharing QR Code Generator. Naturalmente nella pagina apposita basta scrivere come indirizzo Edge Flags e una volta attivata la funzionalità riavviate il PC e a un nuovo avvio di Windows troverete la voce nella tendina di un qualsiasi sito. Cosa ne pensate di questa funzionalità? Per me è utile, a voi pensiero poi nei commenti. Ci vediamo ad un prossimo video.